Un filtro, apri la bocca Ciao a tutti, io sono Mahmood E io sono Mahmood Spero una cosa che adesso Ha partito tutti gli scherzi qua Io sto imparando un sacco Da Ricky E Ricky sta imparando un sacco Non dare Ma no Ma perché sei coglione, perché? Città preferita europea, Amsterdam, Berlino o Londra? Eh, Berlino Io dico Roma Non c'era nelle opzioni Non c'era nelle opzioni In Italia No, dai Nelle opzioni Allora Amsterdam, Berlino Allora Brescia Berlino 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 Grazie a tutti